Cari amici ben ritrovati, siamo qui per parlare di mercato perché arrivano voci clamorose e naturalmente immediatamente smentite perché quando insomma sono notizie grosse non si capisce perché intorno al Milan arrivano subito le smentite, invece sulle cose piccole conferme a tutto spiano, ma al di là delle battute è girata negli ultimi giorni la notizia di un interessamento del Milan per Victor Osimeno, immaginate che storia. Qui lo vediamo in una foto nella famosa esibizione di Leao con la gonna insieme a Victor Osimeno attaccante attualmente in forza Galatasaray ma di proprietà del Napoli. C'è subito da dire una cosa, il giocatore nigeriano ha una clausola valida solo per l'estero quindi a gennaio in ogni caso non potrebbe arrivare al Milan ma se ne parla per la prossima estate. Cioè si parlerebbe di un Milan interessato a vendere Leao, ma questo ormai credo che sia chiaro, e con il ricavato della cifra andare a prendersi Victor Osimeno. Due annotazioni su questa vicenda. La prima annotazione è che ieri si è scritto addirittura sulla Gazzetta dello Sport che l'entourage di Leao sarebbe andato a colloquio con Furlani per capire il momento del ragazzo. Cioè robe turche si può dire, visto che c'è Osimeno di mezzo, si può dire robe turche. Cioè si parla con l'entourage, allora voi capite bene che prenderci in giro è un attimo, si parla di Furlani che parla con l'entourage di Leao per capire come sta il ragazzo. E perché non glielo può chiedere direttamente, cioè è lì, non è che esame. Se è vero che ha parlato con l'entourage è probabilmente per altre ragioni insomma. Ora non sappiamo se la situazione di Leao al Milan sia così grave da proprio indicare una totale spaccatura con l'ambiente. Quello che sappiamo è che, diciamo, se adesso dovessimo scommettere due euro su un possibile futuro di Leao al Milan in queste condizioni ad oggi, al 25 di ottobre, probabilmente sulla sua permanenza andremo a perdergli quei soldi. Però è tutto da decidere. Sul fatto che Leao possa partire già a gennaio, io onestamente la vedo dura perché al di là di quelle che possono essere le considerazioni tattiche, tecniche sul suo contributo quest'anno, sul fatto che sia un po' appannato eccetera, ma trovarsi a gennaio, a meno che non si sia già fuori da tutto, allora in quel caso si aprono i cancelli e tutto quello che deve succedere succede, ma in caso contrario pensare che al di là di tutto, al di là di tutte le situazioni, al di là di tutto quello che può essere il rapporto, magari un po' non proprio di liaco tra Leao e Fonseca, almeno questo appare, privarsi di un giocatore così mi sembra sinceramente una follia, non una follia, una follia di mercato come notizia. Poi dopo io non so adesso quale possa essere la valutazione, sapete che su Leao poi c'è quella famosa clausola che vale per un periodo, insomma tutta quella storia lì. Non so quale possa essere la valutazione sui Leao, non credo nemmeno sinceramente a una teoria, cioè la teoria della svalutazione, io non credo che le prestazioni di Leao in questo momento non di altissimo livello svalutino il giocatore, nell'ambiente si sanno più cose, perché nell'ambiente ci sono professionisti che sanno più cose di quelle che sappiamo noi, sia in termini di personalità, sia in termini di comportamento, sia in termini di prospettiva, ci sono insomma fior fior di dirigenti che seguono tutto il giorno questa cosa, che hanno contatti, che parlano, che vedono, che sanno, quindi io sulla teoria della svalutazione onestamente, alla teoria della svalutazione onestamente io non credo. Non credo che anche una stagione non particolarmente brillante come quella che sta facendo Leao adesso lo possa svalutare. Non credo però allo stesso tempo che ci siano squadre disposte a offrire 100 milioni di euro per Rafa Leao, ecco questo no, ma potevo al limite crederci quando c'erano altre condizioni a livello globale. Cioè intendo dire nell'estate dopo lo scudetto posso anche credere che il Chelsea abbia offerto davvero 100 milioni per Rafa Leao e che noi si abbia rifiutato perché in quel momento c'erano dei dirigenti che avevano un'altra idea per gestire il Milan. Ma in questo momento con una situazione che vede tanti mercati, incluso quello inglese, che poteva essere ecco la destinazione ad esempio, rivedere i loro piani e le loro strategie perché se ne parla molto in Inghilterra di questa cosa, se ne parla molto, si parla molto di rivedere un po' più sul cercare l'investimento sul giovane per allevarlo, per pagarlo meno, ci sono tante squadre che hanno problemi col fair play finanziario, ci sono tante situazioni insomma che sono diverse rispetto a due anni fa. Le cose cambiano, nel mondo del calcio lo sappiamo, cambiano rapidamente, cambiano gli investimenti, cambiano le strategie e quindi non so quale sia la cifra che effettivamente il Milan potrebbe ottenere dall'accessione di Leao. Quello che però so è che se diciamo mi dicessero che il Milan vuole, a prescindere dalla questione Leao, ognuno ha la sua opinione, io non lo venderei, tu lo venderesti, va bene, poi decideranno loro. Ma se mi dicessero vuoi prendere Victor Ozymane, io direi sì immediatamente. È chiaro che Ozymane è un attaccante che ha vissuto una divisione con l'ambiente, cioè è arrivato a un punto di rottura ad un certo punto con il Napoli, ma quello che io gli ho visto fare a Napoli, non solo nell'anno dello scudetto, è un qualcosa di importante per il nostro campionato, cioè lui è un giocatore che se messo nelle condizioni di fare in doppia cifra va. Noi non abbiamo un attaccante a doppia cifra, non abbiamo nemmeno la prospettiva quest'anno di avere un attaccante a doppia cifra, perché non lo so se Ebram potrà ritornare ad esserlo, non credo che Morata possa fare tantissimi gol, almeno questo è l'andazzo in questi primi mesi, pertanto, pertanto, finalmente si potrebbe ragionare su un centravanti da Milan. Milan, ecco, da Milan, perché prima o poi quest'anno si è messa un'altra pezza, fondamentalmente, cioè si è preso Morata, che per l'amor di Dio, tra tutti i posti malvagi dove i nostri dirigenti potevano andare a infilarsi, tutto sommato la stazione Morata non è una stazione dove si sta male, giocatore di livello internazionale, però non è un centravanti da gol, è uno da manovra, è uno d'azione, da sbattimento, di personalità, su questo siano d'accordo, ma non è un centravanti da gol. E il fatto che non siano centravanti da gol, inevitabilmente, porta alla riflessione che prima o poi, santi Dio, anche al Milan si dovrà ragionare su cosa fare, oppure adesso la cantilena sarà, aspettiamo Camarda, perché io comincio ad avere già questa sensazione. E non vorrei, per il bene del ragazzo, per il bene del ragazzo, non vorrei che finisse nel mazzo delle carte, delle promesse non esaudibili. La Champions per tre anni, il pareggio di bilancio, dobbiamo fare lo stadio, aspettiamo Camarda, spero che non diventi la quarta carta del mazzo delle prese in giro. Ok? Quindi, se dobbiamo aspettare Camarda, questo non ci vieta di pensare che il Milan debba ragionare anche sul centravanti. Prima o poi dovrà essere preso, anche perché Ebram è in prestito, quindi poi si valuterà a fine stagione cosa fare di lui. Però anche Ebram, insomma, non lo so, io me lo auguro, io spero davvero, ma comincio a credere che il nostro modo di giocare, se non cambia, non metterà gli attaccanti in grande, diciamo, in grande predisposizione a far gol. Ecco, questa è un po' la mia sensazione. Quindi, Osimene sì, per me, chiaramente poi c'è il discorso di pagarlo, c'è il discorso della cifra, ma parliamo tecnicamente, poi parliamo tecnicamente. Osimene è un giocatore che fa davvero reparto da solo, che gioca, che in area è rapace, che può essere lanciato in profondità. Ripeto, purtroppo, purtroppo, queste notizie, che sono notizie positive per noi, e poi dopo non sono mai vere, ecco. Quindi, per me, Osimene sarebbe un grande sì e poi vedremo che cosa succederà, ecco. Tornando a ragionare su quelli che possono essere i loro piani, la visione di un attaccante è una visione di un progetto e quindi non credo che con questi arriveremo a questo tipo di soluzione. Però è bello sognare anche, in fin dei conti il mercato serve anche a questo, non serve a discutere sui profili, sui giocatori, e serve anche per sognare. Credo che Mimmo Berardi sognerebbe di venire al Milan, ed ecco un altro nome di quelli che ricorrono spesso in salsa fascia destra. Il discorso fascia destra del Milan è un discorso su quale si potrebbe scrivere un'antologia. Prima abbiamo avuto Suso per un sacco di tempo, poi abbiamo cercato il dopo Suso, poi abbiamo avuto Salemeker, poi abbiamo avuto Messias, adesso poi c'è Pulisic, e quindi il salto è notevole, e poi c'è anche Ciucquese. Per cui che riguarda Berardi se ne parlava perché? Perché Ciucquese potrebbe avere delle offerte dall'Arabia per gennaio e il Milan stava pensando di portarsi a casa Mimmo. Allora, Berardi è un attaccante assolutamente divisivo, ma non da oggi, da sempre, da sempre. Cioè, secondo me Berardi è proprio il classico giocatore che o lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo per Mimmo Berardi. Io personalmente sono più tendente ad amarlo che a odiarlo, è un giocatore che da un punto di vista di numeri il suo l'ha sempre fatto in una squadra medio-bassa come Sassuolo, è un giocatore che in nazionale comunque ha vinto un campionato europeo, magari non proprio da protagonista, però c'era in quel gruppo, ed è un attaccante che si è ripreso adesso dall'infortunio. Nell'ultima giornata di campionato è stato anche protagonista, andate a vedervi il secondo assist nella trasferta del Sassuolo a Brescia e capirete che, insomma, per quella categoria Berardi è fuori concorso, sicuramente. Cambiereste Ciucquese con Berardi voi? Io personalmente, per quanto abbia a cuore i destini di Ciucu, per quanto, come sapete, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto vederlo usato con un po' più di continuità, che poteva dare qualcosa in più al Milan rispetto a quello che ci ha fatto vedere, però comincio a credere anche che, insomma, un po' la dualanza, forse direbbe Fonseca, un po' il dualismo con Pulisic, che è un dualismo inteso come due giocatori che giocano da quella parte e dove uno sta facendo talmente tanto bene che non si può togliere, a meno di mettere un trequartista, ovviamente, ma poi qui torniamo al discorso che Fonseca non vede questo tipo di pacchetto offensivo perché dovrebbe esserci un equilibratore dall'altra parte e, a meno che non trasformi Ocafor in quel tipo di equilibratore, non credo che vedremo molto spesso questa formazione. Poi, anche lì, le valutazioni sono valutazioni personali, cioè bisogna capire se il ragazzo sta bene a Milano, se vuole continuare, se si sente a suo agio, se accetta ancora a lungo di essere la riserva di qualcuno. non lo so, sono abbastanza combattuto riguardo a questa cosa, nel senso che sono abbastanza combattuto sul fatto che un cambio Berardi-Ciucuese forse ci potrebbe dare qualcosa in più. Non dico che Berardi sia più vicino a Pulisic come giocatore, ovviamente, però è diverso da Ciuquese, cioè lui è più un giocatore sì individualista, ma anche di squadra allo stesso tempo. È un paradosso, ma nel senso che lui è capace di giocare con la squadra, l'ha dimostrato nella sua esperienza al Sassuolo, l'ha dimostrato anche in nazionale, e è più di squadra rispetto a Ciuquese. Quindi c'è da capire un po' che cosa si vuole fare da quel lato, c'è da capire anche poi quanto l'attacco del Milan riuscirà a portare gol, perché c'è questo da dire. Noi con Ebram, Morata, in questa stagione Leao, Ciuquese, Okafor, non abbiamo tantissimi gol, li dobbiamo sempre distribuire, non c'è un giocatore che riesca, a parte Cristian ovviamente, a far fare quel salto, al nostro reparto offensivo con un giocatore specifico, quindi è una questione così, che va discussa. Voglio conoscere la vostra opinione, voglio sapere che cosa ne pensate di Mimmo Berardi e se volete anche di Vittor Osiment, perché come dicevo prima, sognare non costa nulla. Grazie a tutti.